Ciao, sono Andrea, ho 19 anni e faccio la quinta liceo e ho ereditato una grande passione da mio padre, la passione per l'Alfa. Sono Riccardo, il mio cuore è sempre stato portato a battere per il biscione storico dell'Alfa Romeo. Ho avuto inizialmente macchine favolose, la prima Alfa 1.3 Ti, un'Alfetta 1.6 e un'Alfa 90. Stupendo, ho un'esperienza da ripetere. Adesso andremo a trovare l'ingegnere Pallotti che comincerà a spiegarti il motore. Il tubo benzina è il motore che equipaggerà la Mito, fin dal lancio, caratterizzato da brillantissime prestazioni, da consumi ridotti e da un livello di ecologia pari all'Euro 5. prestazioni 155 cavalli, 230 metrometro di coppia. È un motore che, come dicevano, soltanto è prestazionale, ma anche ecologico, rispetta la normativa di emissioni all'Euro 5, grazie a una ottimizzazione della termocludinamica che consente sicuramente di rispettare questi vincoli particolarmente stringenti dal punto di vista di HC, NOx e CO. E questo ha avuto come controparte la necessità di robustire ancora di più dal punto di vista strutturale del motore perché le temperature dei gradi scarico raggiungono fino a 1000 gradi. Siamo intervenuti sul collettore e sulla turbina ottimizzando il materiale da Gison Air Resistor portandolo ad acciaio ostenitico. È un motore, pertanto, in definitiva, brillante che costituisce il mito cuore pulsante della lettura Mito. Oggi è stata un'esperienza fantastica e mi piacerebbe ripeterla. Grazie a tutti.